Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video questo sarà un video diverso dagli altri perché mi vedete in versione casalinga addirittura natalizia visto che ho una maglia con una renna comunque questa settimana non sono riuscito ad andare a pesca sia per problemi in generale ma anche perché il mare era molto mosso quindi non ci sono riuscito ma ne ho approfittato per iniziare questa nuova serie una serie che sarà di unboxing e di chiacchierata insieme a voi visto che molti di voi mi hanno chiesto delle cose e mi sento di rispondere con dei video io non sono qui per starvi a insegnare le cose ma solamente per darvi dei consigli e per fare appunto una chiacchierata insieme e portarvi le mie esperienze quest'oggi vorrei parlare di acquisti online molti di voi mi hanno chiesto dove acquisto le mie attrezzature da pesca, le mie esche e mi sento innanzitutto di consigliare due siti italiani che non mi hanno mai deluso e sono molto attrezzati visto che sono specifici per la pesca sto parlando di Bass Store Italy e di Sergio Pesca sono veramente molto forniti, hanno prodotti che provengono da tutto il mondo e sono anche piuttosto puntuali nella consegna hanno anche dei vantaggi ad esempio Bass Store Italy oltre i 50 euro di comprato non fa pagare i costi di spedizione e Sergio Pesca mi pare sopra i 200 euro poi vorrei parlare con voi di siti internazionali che vendono robe da pesca insieme anche a altre robe sto parlando in particolare di Aliexpress tantissimi di voi mi hanno scritto se Aliexpress fosse affidabile oppure no io personalmente ci compro sempre su Aliexpress visto che i prezzi come avrete visto sicuramente e come vedrete facendovi un giro su Aliexpress sono veramente molto vantaggiosi questi sono degli esempi di acquisti che ho fatto tramite Aliexpress questa è una piccola swing bait da 10 centimetri veramente molto bella e nuota anche molto bene l'avete vista nel video del luccio se non sbaglio e questo è il buzz bait anche questo l'avete visto nel video pagati praticamente a prezzi stracciati in negozio un buzz bait o una swing bait costerebbero veramente tanto il problema di Aliexpress è che allora questa è roba cinese, comunque orientale quindi rispetto alle marche più conosciute magari possono essere meno validi ma comunque sia a me piace sperimentare cercare nuove esche, nuove marche e quindi ci sta tra l'altro il noto di questa swing bait ad esempio è molto molto carino e un altro svantaggio grosso di Aliexpress è che i prodotti arrivano minimo dopo 20-25 giorni fino a un massimo di 60 giorni quindi detto questo io vi consiglio di essere lungimiranti nel senso che se voi volete ad esempio comprare dei jig per la stagione calda per cercare lecce, occhiate, aguglie vi consiglio di fare un bell'ordine adesso perché almeno vi ritrovate già da marzo-aprile quando arrivano gli sgombri ad esempio che avete già tutto l'occorrente per pescarli altrimenti vi ritrovate ad aspettare i jig e quindi a non avere l'occorrente questo pacchettino Aliexpress China Post Insomma è cinese sono tutti piccoli pacchettini Fishing lure piccole schette eccolo qua è un jigettino con dei mini fast dei snap che è un regalo infatti guardate che c'è scritto un gift un regalo da parte del venditore mi piace questa cosa vediamo se c'è altro no non c'è altro è senza ami quindi lo dovrò montare è un piccolo jig da penso che sia sui 7 grammi questo mi servirà per la prossima stagione probabilmente altro pacchetto questo qua sempre da Aliexpress sempre da Zhang Kunzen ah no è un altro è un altro uno è Kao Miaozi e l'altro è Zhang Kunzen vediamo Zan cosa mi ha portato quindi altre esche super imballate una cosa così piccola vediamo il coltello il ballaggio cinese trova il gusto eccolo e dai dovrebbe essere sui 20 grammi boom e va bene tutti gli acquisti che ho fatto tramite Aliexpress sono arrivati e tra l'altro una cosa molto importante è che la spedizione è gratis detto questo ho dei pacchi che mi sono arrivati e vorrei fare l'unboxing insieme a voi allora questo lo apro per ultimo un altro sito vabbè lo conoscerete tutti è Amazon questo sito che in pratica ha di tutto e anche prodotti per la pesca in realtà questi due pacchi me li ha mandati Icontex che è quell'azienda che mi aveva contattato dopo che io avevo acquistato la loro cam e che mi aveva dato il codice coupon per lo sconto sono stati talmente gentili da mandarmi penso che questi siano degli auricolari delle cuffie adesso lo vediamo insieme che non c'entrano molto con con la pesca però sono stati gentilissimi a mandarmeli qui abbiamo dei cavi ah comunque la GoPro ce l'ho sempre quindi rimane sempre con me anche quando sono a casa e sì sono delle casse wireless sono delle delle casse bluetooth e boh vi lascerò il link in descrizione se volete acquistarne qualsiasi ma comunque non è roba da pesca procediamo con un altro pacco velocemente nemmeno questo sarebbe essere roba da pesca sempre Icontex queste sono delle cuffie sempre bluetooth che potrete usare quando siete a pesca e volete sentire un po' di musica rilassarvi un po' potrete usare queste cuffie non so perché Icontex abbia deciso di mandarmi queste robe però sono molto contento a prezzo regalo e anche di questo vi metterò il link in descrizione comunque visti questi pacchi arriviamo al pacco più importante che è questo lo apro insieme a voi ah questo qui è un è un murinello che è un Abu Garcia un Abu Cardinal un muro economico che mi sono comprato però l'ho preso non su AliExpress bensì su un altro sito l'avevo preso sul sul sito banggood.com in pratica un altro sito molto secondo me valido visto che mi arrivano i prodotti e anche in maniera molto veloce ne ho ordinati anche altri quindi farò altri unboxing è banggood.com è sempre un sito orientale quindi tipo AliExpress stile AliExpress che ha veramente tantissima roba non solo per la pesca quindi è come AliExpress solamente che è un po' meno conosciuto e da questo sito ho preso veramente molta roba per adesso è arrivato solamente questo eccolo qua è un piccolo mulo che userò per la pesca light questo è un Abu Cardinal SX2000 molto economico e l'avevo trovato in sconto anche su Banggood anche di questo vi metterò il link in descrizione è un mulo 2000 che mi sono preso per diciamo ottenere compagnia questi altri muli che ho che uso per il light rock fishing comunque la pesca light in generale io spesso dico soprattutto nella pesca con la gomma che non è necessario avere dei super muli per prendere pesci di scoglio perché comunque sia non è necessario avere uno stella o comunque un daiva di quelli veramente costosi visto che molto raramente se non mai i ghiozzi ci faranno slittare la frizione comunque sia vi ho fatto questo unboxing per parlarvi di siti online da cui compro i miei prodotti quindi ricapitolando in Italia compro soprattutto da Bastor Italy e Sergio Pesca invece acquisti che faccio dal mondo diciamo li faccio soprattutto tramite Aliexpress e Banggood questo sito che ho scoperto ultimamente e da cui ho ordinato pericchia roba che vedrete nei prossimi unboxing e per questa volta ho ricevuto solamente questo mulinello se il video vi è piaciuto fatemelo sapere lasciate un like commentate condividete iscrivetevi al canale se avete anche qualche consiglio per i prossimi video di unboxing e di chiacchierata come la chiamo io fatemelo sapere nei commenti e noi ci rivediamo alla prossima ciao ragazzi queste cuffie sono una bomba ve lo dico ciao Grazie a tutti.